E poi in questi ultimi anni molte cose, la signora Maggi è stato un vulcano, è un bulldozer, dunque va avanti con delle sue idee e le realizza soprattutto. E questo gruppo che fa questi omaggi continui a mio padre è una cosa molto commovente per me perché sono tutti artisti, ognuno che esprime proprio con grande cuore e talento quello che mio padre ha potuto lasciare come memoria, come esempio di lavoro, insomma è stato veramente molto bello. Purtroppo tutto si concentra sempre in troppo poco tempo per poter assorbire e poter ringraziare tutti, ecco.